Una cena tra amici a casa di Michele. I ragazzi forse non sanno che occorre sempre controllare l'origine e la qualità dei prodotti agroalimentari. Il falso danneggia tutti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per la salute dei consumatori e una forma di concorrenza sleale. Non permettere che la contraffazione rovini la tradizione italiana della cucina e della qualità. Prima di acquistare, controlla sempre l'etichetta e verifica l'origine del prodotto.